Un pezzo di storia di Pescara, di quelli che riportano alla mente i bei tempi, quelli in cui lo stadio era un posto di ritrovo e la squadra della città si allenava proprio in centro. Oggi lo storico stadio Rampigna versa in pessime condizioni, un vero e proprio stato di abbandono. Con una delibera è stata data l'assegnazione ad una società che ne aveva fatto richiesta in base, ovviamente, rispettando le normative vigenti. Questa società non ha adempiuto agli obblighi imposti dal contratto stipulato. Il Comune ha fatto delle rifide e è stata riassegnata al patrimonio del Comune l'8 marzo del 2016, il campo Rampigna. Quindi l'8 marzo del 2016 questo campo versa in queste condizioni. È una denuncia che faccio all'amministrazione comunale affinché si sbrighi a riqualificare questo impianto, anche perché darebbe ampio respiro a tutte quelle società che hanno in tal modo ingrossato gli orari delle altre strutture. Oppure pensare che ci sono ragazzi che sono costretti a fare allenamento dalle 9 e 10 di sera, quando in realtà questo campo sarebbe disponibile per altre attività e non solo calcistiche. Un appello all'amministrazione comunale per ottenere i fondi necessari al suo ripristino. Una somma che si aggira sui 200 mila euro. Spero che questo grido di allarme che arriva anche da tanti ragazzi che grazie allo sport vengono tolti dalle strade, quindi mi riferisco anche a un aspetto non solo sportivo ma anche sociale, possa essere ripreso dall'amministrazione comunale. E ripeto, se non dovesse essere fatto mi impegnerò io personalmente, unitamente al mio gruppo consigliare, a stanziare dei soldi in bilancio per far ripartire alla grande il campo Rampigna che è sempre stata la struttura per eccellenza della città di Pescara.